Martedì 15 novembre alle 18.30 inizierà per il quarto anno consecutivo un percorso di formazione aperto a tutti per la pastorale della salute, in modo particolare per accostarsi ai malati e ai sofferenti. Questa proposta che il Centro di Pastorale Sanitaria della Diocese di Roma fa rientra anche in questo secondo anno di cammino sinodale in cui, secondo l'immagine dei cantieri di Betania, siamo chiamati con Gesù a camminare per la strada, entrare nei villaggi, nelle case e a essere formati. I villaggi tra virgolette delle persone malate a Roma sono tantissimi e non sempre è facile sapere come accostarli, come comunità cristiane possiamo essere al loro fianco, ma anche come valorizzare la loro presenza all'interno della comunità. Ecco questo percorso che vi offriamo in sei incontri quindicinali a partire appunto dal 15 novembre daranno appunto l'occasione per approfondire un po' cosa significa intanto accostarci al tema, al grande tema del male, della sofferenza, della malattia, della morte, ma anche come si ascolta una persona malata e anche guardare alla comunità parrocchiale che allarghi un po' il suo orizzonte per essere più vicino ai tanti malati ma anche alle tante forme di malattia che ci sono oggi. Quindi ecco vi aspettiamo dal 15 novembre in poi e potete scrivervi attraverso l'indirizzo email del nostro ufficio. Credo che sia un'occasione bella da poter cogliere per essere più accanto a chi soffre. a chi soffre. a chi soffre.